Ciao a tutti, oggi vi vado a mostrare i miei charm che ho fatto tempo fa non so se ve li avevo già recensiti ma nel dubbio ve li vado a mostrare di nuovo questi sono fatti con silicone e fimo, le coppettine chiaramente le ho prese già fatte e sono di plastica e adesso ve li vado a mostrare di uno ad uno allora, uno è fatto così con queste ciambelline verdi un altro è fatto così con dei mirtilli rossi e della glassa al caramello uh, spacca tutto su questo invece abbiamo della glassa gialla con dei biscottini a forma di cuore poi abbiamo questo qua con della glassa e sempre dei biscottini a forma di cuore ma più chiari e per finire abbiamo questo con i piccoli lamponi e la glassa verde poi sempre a tema gelato aspettate che li trovo e poi ne ho anche altri ma vi dovrò fare un video a parte perché sennò diventerebbe troppo lungo ho anche questi quattro coni qua oplà questo azzurino con i biscottini a forma di fiore fatto così come vedete non sono grandi, sono proprio dei charm poi c'è quest'altro con la pallina di gelato sotto e del silicone rosa sopra con le ciambelline verdi poi abbiamo questo con la pallina di gelato dovrebbe essere un tifani ma dal cellulare non rende con la panna gialla e le fragoline e per finire quest'altro con un variegato sotto e della panna sopra rosa con dei mirtilli così e niente, vi ho voluto mostrare queste creazioni se qualcuno è interessato può contattarmi su Instagram mi farebbe un gran piacere anche perché stiamo passando un momentaccio a livello economico quindi se qualcuno di voi è interessato alle mie creazioni e vuole comprarne qualcuna che ben venga io vi ringrazio in anticipo e buona giornata a tutti